Musica Strage di Sassano, il procuratore russo soddisfatto per i tempi celeri e smentisce richieste di rito abbreviato. Sassano, maltrattamento bovini, il comune chiede il trasferimento degli animali. Rifiuti, regione Campania, migliore d'Italia per piano riduzione rifiuti. Primari e PD, atteggiano vince Cozzolino, chirico, abbiamo sostenuto chi ci ha sostenuto. Vallo di Diano, due iniziative del centro Sodalis con gli studenti del liceo classico Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina e l'istituto tecnico per il turismo di Montesano. Buongiorno, bentrovati a questa nuova edizione con l'informazione di Uno News. In apertura torniamo sul caso della strage di Silla di Sassano. A distanza di una settimana dall'udienza preliminare con il rinvio a giudizio per Gianni Pacello. Parla ora il procuratore capo della Repubblica di Lago Negro, Vittorio Russo, che si dice soddisfatto per i tempi celeri della procura e smentisce ipotesi di rito abbreviato. Nessuna richiesta, infatti, dice, è giunta alla procura. Vediamo. Ad una settimana dal rinvio a giudizio di Gianni Pacello parla il procuratore capo della Repubblica di Lago Negro, Vittorio Russo, soddisfatto per la celerità del procedimento. Lo scorso martedì, a distanza di cinque mesi dal tragico incidente stradale che vide il giovane 22enne di Sassano tranciare la vita di quattro ragazzi, tre adolescenti di cui uno suo fratello e di un suo coetaneo, è stato già disposto dal GUP Claudio Scorza, dopo l'udienza preliminare, il rinvio a giudizio, con la data fissata per il 21 aprile. Un'udienza della durata di circa due ore, che aveva subito a distanza di pochi minuti una prima interruzione, quando la difesa aveva richiesto la citazione del responsabile civile, cioè dell'assicurazione, che a seguito consultazione è stata però rigettata, in quanto l'intestatario della polizia assicurativa non era l'imputato, bensì suo padre. Nel corso dell'udienza era stata anche avanzata la richiesta di patteggiamento, anche in questo caso richiesta rigettata. Tra meno di due mesi partirà il processo con la prima udienza, che sarà celebrata il 21 aprile, così come annunciato già all'epoca dei fatti dal procuratore russo, che aveva garantito celerità. Sono molto soddisfatto della rapidità con cui si è conclusa l'attività istruttoria. Il 21 aprile, cioè sarebbe il mese prossimo, l'episodio è successo il 28 settembre, se mal non ricordo, andare a sentenza in poco più di cinque mesi credo che rappresenti un segnale importante di quello che dovrebbe poi essere la giustizia efficace, efficiente e rapida. Tra l'altro è motivo di soddisfazione che il GIP abbia confermato l'impianto accusatorio del mio ufficio, confermando l'ipotesi della colpa cosciente che si era ritenuto di contestare al Pacello con la misura cautelare. Si è parlato anche di una richiesta del rito abbreviato da parte dei difensori di Gianni Pacello, ipotesi che al momento non è confermata, anche se sussistono ancora i termini per poter presentare la richiesta. L'udienza ci sarà il 21 aprile, cioè fra poco più di 40 giorni e in quella sede la difesa potrebbe chiedere l'abbreviato, ma questa richiesta non è stata ancora formalizzata. Tengo solo a precisare che l'abbreviato consentirebbe una ancora più rapida soluzione del caso, perché l'abbreviato elimina l'udienza dibattimentale, per cui si andrebbe subito a sentenza con uno sconto di pena di un terzo per l'imputato. È una valutazione che faranno i difensori, sulla quale però non sono in grado di dare le anticipazioni, perché i difensori non mi hanno anticipato assolutamente questa loro volontà di richiedere il rito alternativo. Ordinanza del Comune di Sassano a firma del Vice Sindaco Cono Boccia che impone ad un allevatore del posto di individuare una sede idonea per il ricovero dei bovini in allevamento, ma vediamo perché nel prossimo servizio di Giuseppe Opromolla. Con un'ordinanza a firma del Vice Sindaco Cono Boccia, il Comune di Sassano chiede ad un allevatore del posto di 70 anni di individuare un ricovero idoneo in cui trasferire gli animali presenti nell'allevamento bovini entro un massimo di 24 ore dalla notifica. Come riporta all'ordinanza, lo scorso 24 febbraio i funzionari del Dipartimento Prevenzione dell'ASL, area sud, si sono recati presso l'allevamento e come riportato dal verbale numero 398 del 27 febbraio, avevano constatato lo stato generale di assoluto degrado, l'assenza di cibo e di acqua, le modalità di detenzione dei bovini che evidenziavano la completa assenza del rispetto delle più elementari norme igienico-sanitarie, della normativa che tutela il benessere degli animali e ravvisava il reato di maltrattamento animale. A seguito di tale comunicazione, nella giornata di ieri, il comando dei vigili urbani di Sassano si è recato presso il luogo oggetto di segnalazione e hanno constatato il perdurare della condizione di criticità esposte dall'ASL e hanno ritenuto urgente, al fine di evitare ulteriori sofferenze degli animali, procedere al trasferimento immediato degli stessi in un ricovero idoneo e anche al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica. Per quanto espresso, il comune di Sassano con tale ordinanza ha chiesto all'allevatore di individuare un ricovero idoneo in cui trasferire gli animali presenti nell'allevamento entro un massimo di 24 ore dalla notifica, in caso contrario verrà emesso uno successivo provvedimento di trasferimento. Inoltre il comune ha disposto a che tale ordinanza, oltre ad essere trasmessa al proprietario, venga notificata anche all'ASL area sud, al comando della stazione dei carabini di Sassano, al corpo forestale dello Stato e al comando della polizia urbana. Continua l'attività di controllo e di repressione da parte dei militari della compagnia di Sala Consilina. Gli ultimi interventi dei carabinieri hanno riguardato i comuni di Polla, Sant'Arsenio, Auletta e Petina. Non solo traffico di sostanze stupefacenti, i militari della compagnia di Sala Consilina continuano nella loro azione di vigilanza e controllo su tutto il territorio del Vallo di Diano, volto a reprimere anche altri tipi di reati. Questa volta la squadra guidata dal capitano Emanuele Corda, negli ultimi giorni ha svolto attività volte a reprimere la commissione di atti predatori. In particolare a Polla i militari della stazione locale dei carabinieri hanno deferito in stato di libertà quattro persone resesi responsabili a Polla e Sant'Arsenio del furto di gas metano. I malviventi compievano tale reato attraverso la manomissione dei contatori e nel complesso hanno arrecato un danno a carico della società calcolato intorno ai 5.000 euro. Ad Auletta e Petina invece i militari delle stazioni locali nel corso delle attività di controllo sul territorio hanno individuato due persone, una di nazionalità rumena e una di nazionalità italiana, già noti alle forze dell'ordine, che non hanno saputo giustificare la loro presenza in loco. Per i due, provenienti da comuni di altre province della Campania, i militari hanno proposto la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. Le diverse operazioni condotte dalla Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina in queste settimane dimostra l'attenzione da parte delle forze dell'ordine guidati dal Capitano Emanuele Corda alla sicurezza e alla tranquillità dei cittadini del Vallo di Diano ed è un chiaro segnale verso chi intende commettere reati nel territorio valdianese. L'ANAS comunica che a causa del sciopero dei gestori delle aree di servizio autostradali resteranno chiuse alcune aree di servizio anche sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria fino alle ore 22 di giovedì 5 marzo. In particolare sono previste le chiusure per le aree di servizio di Salerno in entrambe le direzioni, Campagna in entrambe le direzioni, Galdo in direzione sud, Frascineto in direzione sud, Cosenza in entrambe le direzioni, così come Rogliano anche queste in entrambe le direzioni e la mezza terme e poi Rosarno invece in direzione sud. Cambiamo argomento, la Regione Campania è stata premiata da Lega Ambiente e Federambiente per il piano regionale di prevenzione e la riduzione dei rifiuti. Siamo, dice il governatore Stefano Caldoro, dopo la vergogna un modello. Vediamo. Un importante riconoscimento è stato ricevuto ieri dalla Regione Campania da parte di Lega Ambiente e Federambiente per il piano regionale di prevenzione per la riduzione dei rifiuti. Questo dimostra che le politiche attuate dalla Giunta Caldoro per la gestione del ciclo dei rifiuti ci pongono all'avanguardia in Italia, ha dichiarato l'assessore all'ambiente Giovanni Romano. La nostra strategia ha spiegato e stata mirata da subito alla riduzione a monte dei rifiuti in modo che si riuscisse ad avere un minor quantitativo di scarti da lavorare e smaltire. A un lato ci siamo attivati per implementare best practice in materia di raccolta differenziata per ottenere una minimizzazione dei rifiuti ex ante. I risultati ci hanno dato ragione. Dal 2010 ad oggi in Campania si è avuta una riduzione dei rifiuti di 240.000 tonnellate annue. Siamo passati dai 2.790.000 ai 2.550.000 attuali. Il piano regionale di prevenzione per la riduzione dei rifiuti, ha aggiunto l'assessore regionale, sarà ora attuato grazie all'investimento da parte della Giunta Caldoro di 30 milioni di euro. I fondi sono già disponibili e i bandi saranno pubblicati entro aprile. Grazie alle 14 iniziative che saranno messe in campo stimiamo un'ulteriore riduzione del 10% pari a 260.000 tonnellate. La regione Campania ha concluso Romano e la prima regione d'Italia a dotarsi di un tale strumento strategico in linea con le direttive di Bruxelles. Abbiamo voltato pagina un riconoscimento significativo, abbiamo recuperato anni di ritardo e costruito un sistema normativo moderno, una programmazione all'avanguardia, sosteniamo i comuni che sono i veri protagonisti, ha aggiunto il presidente Caldoro che ha concluso affermando siamo dopo la vergogna del passato un modello per l'Italia. E passiamo alla politica, torniamo sulle questioni sulle primarie del Partito Democratico perché il coordinatore del PD di Teggiano, Salvatore Chirico, analizza ai nostri microfoni il risultato sorprendente di Teggiano e netta controtendenza rispetto al resto della provincia di Salerno che ha visto trionfare il candidato Andrea Cozzolino. Non siamo andati contro il territorio ma abbiamo sostenuto chi ha sostenuto i nostri progetti. Queste le sue parole ma ascoltiamolo. No, noi non siamo stati contro De Luca perché neanche siamo stati contro il territorio. Noi abbiamo praticamente invitato la gente a votare ma la gente ha votato perché in effetti ci sono state delle azioni che ha fatto il Partito Democratico. Il Partito Democratico a Teggiano ha capito già dall'inizio che era inutile vivere di slogan oppure di promesse invatuando le persone e via di seguito. Era necessario arrivare a un momento in cui bisognava cominciare a costruire dei progetti che partissero dalle persone. Cioè le persone diventassero proprietari del proprio territorio e insieme cominciassero a ragionare quali erano le linee di sviluppo e di pensiero politico da adottare affinché tutti quanti vivessero una realtà giusta e condivisa. E la prima cosa che noi facemmo abbiamo lanciato la Smart City, un nuovo modello di vita, di concezione, di vivere il territorio e di immaginare il futuro. L'Onorevole Consolino venne personalmente a sostenerci questa idea. Abbiamo fatto un altro progetto insieme al Consorzio Crest che piglia tutti i segmenti di interesse per uno sviluppo reale e sostenibile del territorio e che si chiama I colori del Vallo di Diano per uno sviluppo sostenibile e combatibile verso il turismo futuro che intravede con un'accoglienza a tutti. E Cozzolino questo qua ce l'ha pure sostenuto. Cioè questo personaggio continuamente sta a immaginare un territorio di sviluppo e continuamente ci ha sostenuto. Abbiamo fatto un progetto anche di interesse collettivo, territoriale ed è la mobilità sostenibile del Vallo di Diano. E questo progetto è pronto. E fra poco ci sarà pure un finanziamento, diceva l'Onorevole Cozzolino, attraverso l'Horizon 2020. Allora, se noi cominciamo a ragionare per il territorio, se noi cominciamo a immaginare un possibile sviluppo, se lo sviluppo è combattibile, se le possibilità occupazionali ci sono, se i giovani si ritrovano nel loro futuro, Cozzolino è stato con il futuro del Vallo di Diano. Noi abbiamo sostenuto Cozzolino anche perché nelle primarie dovevamo fare una scelta. Abbiamo scelto chi ci ha aiutato a immaginare cose futuristiche con i progetti che avevamo fatto, che erano progetti nostri. Il nostro presidente, il presidente che hanno scelto, che è uscito fuori, di cui mi fa piacere, ne sono orgoglioso anche per quello che ha fatto a Salerno, è De Luca. Prima potevamo scegliere, adesso non possiamo scegliere, per cui anche per noi De Luca è il nostro candidato. E sull'esito delle primarie si registra anche l'intervento dell'onorevole Donato Pica, che ha parlato di netta vittoria di Vincenzo De Luca, che si configura come un passaggio importante sotto il profilo della partecipazione democratica alla vita del nostro partito. E adesso è il momento di concentrarsi in maniera compatta sull'appuntamento elettorale di maggio, ribadendo il nostro impegno per far ripartire la campagna. È il momento, ha concluso Pica, di sostenere la battaglia del PD e del suo candidato governatore in ogni territorio della nostra provincia. Andiamo avanti. Il comune di Montesano sulla Marcellana, guidato dal sindaco Donato Fiore Volentini, approva con delibera la realizzazione di un nuovo parco progetti. L'iniziativa è stata attivata su proposta dell'assessore lavori pubblici Giuseppe Rinaldi, in vista della definizione del documento per le strategie delle aree interne. Vediamo. In risposta all'elaborazione del documento strategico per le aree interne avviato dalla comunità montana, con il riconoscimento della regione campania, il comune di Montesano sulla Marcellana, guidata dal sindaco Donato Fiore Volentini, ha dato il via ad un nuovo parco progetti, che dovrà rispondere alle necessità di crescita e sviluppo dell'area, in linea con la programmazione dei fondi europei 2014-2020. L'iniziativa mira ad individuare aree di interesse e progetti che possano concretamente apportare beneficio alla comunità e far sì che la nuova programmazione dei fondi non vada ad essere sprecata con lavori che poi rappresenterebbero soltanto un inutile sperpero di denaro pubblico, di cui l'intera comunità non possa poi beneficiarne e avere adeguato riscontro. A proporre l'iniziativa l'assessore comunale ai lavori pubblici Giuseppe Rinaldi, che comprendendo l'importante piano di sviluppo di cui la comunità montana Vallo di Diano si è fatta promotrice, ha chiesto di dare immediatamente seguito alle attività di realizzazione di idee progettuali, su cui poter investire in modo concreto con finalità di sviluppo, di crescita e di contrasto allo spopolamento di cui sono vittime le aree interne, in particolare il sud. Inoltre la realizzazione di un parco progetti va bene ad integrarsi con il nuovo piano urbanistico comunale a cui il Comune di Montesano sta lavorando in queste settimane, approfittando anche dell'utile strumento dell'Urban Center comunale. In vista dell'avvio della nuova programmazione europea 2014-2020, spiega infatti Giuseppe Rinaldi, tenuto conto delle esigenze che ha il Comune di Montesano di dotarsi di un rinnovato parco progetti in linea con la nuova programmazione, si ritiene lanciare la realizzazione di progettualità che rispondano alle succitate richieste, che partono e trovano riscontro anche nel recente documento strategico delle aree interne di cui è promotrice la comunità montana Vallo di Diano. Progetti che aspirano ad inserirsi nel contesto più ampio del Vallo di Diano, coerentemente con le sue linee sovracomunali di sviluppo più volte indicate. Quest'iniziativa, inoltre, conclude l'assessore ai lavori pubblici di Montesano, punta anche ad evitare la redazione all'ultimo minuto di progetti solo per rispondere alle scadenze delle misure regionali o altre tipologie di finanziamento. I finanziamenti devono essere coerenti con lo sviluppo integrato del territorio e sostenibili, altrimenti si spendono risorse pubbliche inutilmente. Dall'8 al 14 marzo si svolgerà la settimana mondiale del glaucoma, prima causa di disabilità visiva al mondo come con check-up oculistici gratuiti ed incontri informativi in oltre 65 città italiane, tra queste anche Salerno. Il glaucoma non è un tumore, è una degenerazione progressiva del nervo ottico dovuta principalmente all'aumento della pressione oculare. Se non diagnosticato e curato in tempo, provoca una riduzione permanente del campo visivo fino alla perdita della vista. La terapia si basa sull'utilizzo costante di colliri, ma è indispensabile una diagnosi precoce. E ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e riprenderemo tra pochissimo con il resto delle nostre notizie. Bentornati alla seconda parte del nostro Tg, parliamo di agricoltura perché il delegato all'agricoltura del comune di Sant'Arsenio, Angelo Mango, ha tracciato un bilancio del settore agricolo nel Vallo di Diano. L'importante è fare rete per valorizzare le eccellenze del territorio. Questo è il messaggio che è emerso dalle sue parole, ma ascoltiamolo. Il bilancio è relativo perché si sta cercando di lavorare, si sta cercando di andare nell'azienda e vedere un po' queste cose fanno. Il motivo per vedere cosa fanno è quello di fare rete, quello di unirci in qualche maniera e vedere che il Vallo di Diano si esprima con i suoi prodotti, i prodotti di qualità. Mano a mano che vado in giro vedo che ci sono delle eccellenze particolari e che mi entusiasmano come residente del posto. Io vedo particolarità, vedo degli impegni anche economici in una certa maniera, però mi dispiace che in effetti è ridotto la cosa. Fare rete vogliamo dire che ci vogliamo allargare più in là, vogliamo cercare di vendere i nostri prodotti al meglio per avere una rissa diversa, per far sì che le nostre aziende domani esistano ancora guadagnando. Se noi non andiamo nei mercati più ricchi, se noi non abbiamo la possibilità di guadagnare di più, i nostri figli domani certamente dovranno andare via. Facendo il dovuto guadagno facciamo sì che questi qua domani possono restare. E domani 5 marzo 2015 alle ore 9.30 presso l'aula consigliare del Comune di Sant'Arsenio si terrà la firma di un protocollo d'intesa tra il Comune di Sant'Arsenio e l'Istituto Professionale per i Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di Sala Consilina diretto dalla dirigente scolastica Maria Antonietta Trott. Il protocollo d'intesa prevede che i docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore forniscano al Comune di Sant'Arsenio consulenze su tematiche agricole ed in merito alle politiche forestali che il Comune intende adottare. Il Centro di Volontariato di Salerno Sodalis ha avviato due iniziative che coinvolgono gli studenti degli istituti del liceo classico Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina e dell'Istituto Tecnico per il Turismo di Montesano sulla Marcellana. Vediamo. Due progetti attivati dal Centro Servizi per il Volontariato Sodalis di Salerno e pronti ad essere inseriti all'interno di contesti scolastici del territorio valdeanese coinvolgendo gli studenti. Sodalis, associazione di associazioni che si dedicano ad attività di volontariato principalmente rivolte alla sensibilizzazione verso temi di stretta attualità e di carattere sociale ha avviato due progetti coinvolgendo gli allievi del liceo classico Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina e dell'Istituto Tecnico per il Turismo di Montesano. In particolare le due iniziative saranno protagoniste sabato 7 marzo e sono realizzate in collaborazione con l'associazione Volta Pagina e l'associazione La Ferrovia. I temi in trattazione riguardano due fenomeni in rapida diffusione soprattutto tra i giovani come l'alcolismo ed il ciberbullismo. Nel primo caso gli studenti del liceo classico Marco Tullio Cicerone e l'associazione Volta Pagina presieduta dalla professoressa Paola D'Angelo saranno sabato 7 alle ore 17 presso la Olamagna delle scuole elementari di Via Matteotti a Sala Consilina per discutere del fenomeno dell'alcolismo con i ragazzi che saranno chiamati a confrontarsi sul tema L'alcolismo preferisco vivere. Nel corso dell'incontro sarà proiettato un video a cui hanno collaborato nella realizzazione gli studenti del liceo classico di Sala Consilina Ubriachi sì ma di vita e la pubblicazione di un lavoro di scrittura privata sul tema. L'altro incontro è in programma sempre sabato 7 ma di mattina alle ore 10 e coinvolge i ragazzi delle classi quarte dell'Istituto Tecnico per il Turismo di Montesano nell'ambito dell'iniziativa promossa dall'associazione La Ferrovia e denominata Sbullone il Bullo che punta a sensibilizzare le giovani generazioni sul fenomeno del ciberbullismo cioè la violenza perpetrata a mezzo internet con minacce e attacchi continui perpetrati nascondendosi dietro la rete. In questo secondo caso gli studenti saranno chiamati a confrontarsi sulla tematica con percorsi di sensibilizzazione ed attivare verso propri coetanei l'intera comunità scolastica. Entrambi i progetti rientrano nel più vasto programma di volontariato e giovani in pratiche di sussidiarietà avviato dal centro Sodalis al fine di promuovere nel mondo dei giovani studenti delle scuole secondarie e dell'università il volontariato e la solidarietà. L'obiettivo è di realizzare un lavoro di promozione educativo e culturale condotto in partnership tra le organizzazioni di volontariato il mondo della scuola e dell'università per alimentare e crescere il protagonismo e la partecipazione alla vita sociale dei giovani creando occasioni di impegno diretto. Intanto anche il liceo artistico di Teggiano parteciperà al concorso nazionale New Design 2015 indetto dal MIUR e giunto quest'anno alla quarta edizione in collaborazione l'istituto di Teggiano parteciperà in collaborazione con l'azienda Box & Co di Teggiano Il concorso nato per promuovere il merito tra gli studenti dei licei artistico presenti sul territorio nazionale vedrà la partecipazione in questa edizione 2015 anche degli allievi del Pomponio Leto rappresentati da Michela Anna Pinto, Michele Casale e Rocco Lopardo i ragazzi in questa esperienza saranno seguiti dalla docente tutor Teresa Rotella in collaborazione con i docenti di laboratorio Germano Torresi, Giuseppe Mollo e Anna Maria Raimondo nel progetto per la realizzazione dei prodotti è stata coinvolta anche l'azienda Box & Co di Teggiano che collaborerà con i ragazzi in occasione di questo importante appuntamento di confronto con oltre 60 altri studenti di licei artistico provenienti da ogni parte d'Italia i progetti dovranno essere caricati online entro marzo e se superano le selezioni saranno chiamati a presentare il prototipo entro il mese di maggio 2015 Cambiamo argomento, è in programma domani la consegna degli attestati del progetto di giornalismo brainstorming che ha visto la partecipazione di 16 ragazzi un progetto che ha visto l'impegno della banca Montepruno e che ha portato alla pubblicazione di 4 numeri di un giornalino completamente scritto dai ragazzi Domani alle ore 11 presso l'aula consigliare del comune di Sala Consilina saranno consegnati gli attestati del progetto di giornalismo denominato brainstorming lanciato nei mesi scorsi grazie all'intesa tra la banca Montepruno, il comune di Sala Consilina e la società operaia di mutuo soccorso Torquato Tasso di Sala Consilina l'obiettivo del progetto è dare un'opportunità di crescita formativa alle giovani generazioni e ha portato alla pubblicazione di 4 numeri di un giornalino scritto interamente dai ragazzi è stata creata una vera e propria redazione numerosi sono stati i momenti di confronto su tantissime tematiche attuali grazie anche alla partecipazione di esperti del settore in primis la libertà di stampa e il ruolo del giornalista di ieri e di oggi sono state fornite indicazioni su come ridigere un articolo su come si costruisce la notizia, dove scovarla, come impostare un'intervista e a chi ogni mese è stato composto il magazine brainstorming che in gergo giornalistico è il momento in cui una redazione tira fuori tutta la verve per mettere a frutto le idee e le proposte che poi vengono vagliate dal gruppo e successivamente pubblicate saranno consegnati gli attestati a 16 ragazzi che hanno partecipato al progetto e alla consegna parteciperanno il sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone l'assessore alla cultura, Gelsomina Lombardi il direttore generale della Banca Montepruno, Michele Albanese il presidente della società operaia di mutuo soccorso Torquattotasso Michele Calandriello, Antonella Citro, tutor del corso e Daniele Campanelli grafico del magazine brainstorming e sempre domani giovedì 5 marzo prenderà il via il progetto ideato dal circolo Banca Montepruno è rivolto ai giovani studenti e agli istituti scolastici del territorio su cui opera la Banca Montepruno dedicato alla sensibilizzazione al contrasto del fenomeno della ludopatia il primo appuntamento come detto è in programma per domani giovedì 5 marzo presso il teatro comunale di Sant'Arsenio e coinvolge gli alunni delle scuole dell'istituto comprensivo Sant'Arsenio, San Pietro, Altanagro e San Rufo che saranno chiamati a confrontarsi sul tema del gioco d'azzardo alla presenza dei docenti individuati come tutor del progetto i prossimi appuntamenti per il 12 marzo presso l'istituto comprensivo di Polla con i ragazzi di Polla, Caggiano e Auletta il 17 marzo presso l'istituto comprensivo di Teggiano il 19 marzo presso l'istituto comprensivo di Sala Consilina con i ragazzi di Sala Consilina e Atena Lucana e con questa notizia termine il nostro Tg io vi ricordo che i notizi e approfondimenti sono disponibili sul nostro sito internet all'indirizzo www.unotvweb.it grazie per averci seguito auguro a tutti un buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti